Ho visto quello che è successo, tra te e Trilla, so quello che avete passato. Mi dispiace tanto, sono stato arrogante e superficiale. Non mi sono mai messo nei tuoi panni. Lei ha un hologram, e non so cosa vuole farne. Io sono responsabile delle scelte che ha fatto Trilla. E quello che sta per fare è il risultato di tutti gli errori che ho commesso. I nostri errori riguardano il passato. Quello che conta è assumersi le proprie responsabilità e agire di conseguenza. Me l'hai insegnato tu, Sir. Hai ragione. So dove lo sta portando. Esiste una fortezza. Dove portano i Jedi. Lì agiscono gli inquisitori. È un luogo di tortura. È da lì che sono scappata. E non pensavo di doverci tornare. Non ci andrai da sola. Avrai un amico con te. No. Avrò un Jedi al mio fianco. In ginocchio. Per diritto del Consiglio. Per volere della forza. Cal Kestis. Sorge, Cavaliere Jedi. Stai facendo progressi, Cal. Quando ero una Padawan, pensavo di aver esplorato l'intera galassia con Cordoba. E invece? Avevamo scalfito solo la superficie. Tu quanta galassia hai visto? Prima di unirmi a voi. Solo Datuni. Mi hanno insegnato a odiare il resto della galassia. A diffidare degli stranieri. Vorrei dire che le tue sorelle si sbagliavano. Ma forse volevano solo difendersi. Ma io no. Voglio capire questa galassia. E chi vuole salvarla? Allora sei sulla nave giusta. Invidio le esperienze che farai. Splendide formazioni naturali. Colori mai visti prima. Cibo. Arte. Musica. In guerra è facile dimenticare l'esistenza di queste cose. Ma esistono. Vieni qui ragazzo. Stiamo per atterrare. Si mette male. I nostri soliti trucchetti sono inutili contro le loro difese. Posso fare qualcosa? Cos'hai in mente? Un rituale. Nasconderà la nave. Spero. Un rituale? Ci sa fare con queste cose. Un attimo. Fermi tutti. E di che cosa hai bisogno per il tuo rituale? Di un sacrificio. Un tuo braccio dovrebbe bastare. Che cosa? Stavo scherzando. E ora seguitemi. Sorelle mie. Madre. Donatemi la vostra forza. Sorelle mie. Madre. Donatemi la vostra forza. È incredibile. Funziona. Quante possibilità abbiamo? Io punto su di te, ragazzo. Su, andiamo. Una volta dentro mi occuperò delle loro difese. Poi saboterò i sensori, così la Mantis può recuperarci. Tu cerca l'Holocron. Non è meglio restare uniti? Sento il richiamo. Sono in gioco le vite di quei bambini. Qualunque cosa accada, qualunque cosa vedrai. Non preoccuparti per me. Prendi l'Holocron e vatti. Siamo quasi alla fortezza. Andiamo. No. No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ha un fatto colpito! Ancora resisti, è poco santo. La cazzino ci teme. Non ti darò stregua! Scappa! Restentalo! Avvicini! Danni subiti! La tua fine è vicina! Cosa! Cosa! Porta chiusa, ti presento BD-1. Il genio è nell'ala degli interrogatori! Non sconfiggerai l'Impero! Andiamo! Qualcuno lo sconfisca! Traditore, vieni qui e combatti! Colpito! Ha ucciso una delle cose! Un colpo debole! Ti fermerò! Concentrare il fuoco! Ancora! Colpiamolo ancora! Prendetelo prima che fuga! Lo sta sparando! Non riesco a colpirlo! Sono rimasto solo! Quello è l'ultimo! Cal sono vicino a te dietro una porta anti-blaster. Riesci ad aprirla? E' stato impressionante. Come ti senti? Non pensare a me, c'è un lavoro da fare. Ma fare a pezzi questo posto è piacevole. Ci tenevano imprigionati qui. Se solo ci fosse qualcuno da salvare. Mi dispiace che siamo tornati qui. Anche a me. Ma non avevamo scelta, no? Capisco. Andiamo avanti. Sì, facciamola finita. Qualche traccia di trilla? No, ancora no. L'Holocron è nella camera degli interrogatori. È il posto più sicuro dell'intera fortezza. Aprirò una via fino all'Holocron. Arriva all'Holocron. Creerò un diversivo e ti raggiungerò appena posso. Ci sono! Sembra un turboascensore. Potrebbe essere l'uscita. Ci avviciniamo. Ehi, vi di un... Grazie di essermi amico. Mai visto nulla di simile. Avanzato, anche per l'Impero. Ehi, vi di un'impero. Ehi, BD. BD, puoi occupartene tu? No! 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 Grazie a tutti. Sogni, come noi. Non puoi vincere. Previtivi. Qui, amico! Morirai agonizzante. Questo non cambierà niente. Amico, aiuto! Amico, aiuto! Hai una pessima mia. Cal! Ho preso l'holocron. Adesso tocca a me. È finita, Trilla. Ti illudi se credi che sia finita. Questa battaglia è finita. Conosco l'oscurità che ti divora dall'interno e so che ogni giorno possiamo scegliere se alimentarla o combatterla. È troppo tardi, sir! No. Ti sbagli. So che a causa delle mie scelte tu non hai più avuto scelta, Trilla. E so di averti delusa. Io ti ho delusa. E non sai quanto mi dispiace. ti ho odiata con tutta me stessa. ho un brutto presentimento. Anche io. è lui. Mi hai deluso, inquisitore. Vendicateci. Cal, corri! Faresti meglio ad arrenderti. Si. Si. Potarsi. Vendicateci. 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 Il dirboascensore, andiamo. Attenere la posizione! Scappiamo da qui! Avanti! Vidi, indietro! Ah! Dobbiamo muoverti, eh? Vedi sempre il lato positivo. L'abbiamo scampata. Ce la farò. Sì. Non ti deluderò. Gal, mi senti? Non rispondono. Lo faranno. Ne sono certa. Gris, sono qui. Sto risalendo. Tieniti pronto. Ho preso l'holoclon. Sì. Non ce l'ha fatta, Gris. Sì? Consegnami l'holoclon. Te lo puoi scordare. Lo vedremo. Non ti lascerò prendere quei bambini. Quanto odio. Saresti stata eccellente come inquisitore. Lei è molto più forte. Sì. È forte l'holato oscuro. Sì. Lo percepisco dentro di lei. Sì. Sì. Ehi, ascoltami. Hai ancora una scelta. Sì. Hai. 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 Ehi, ragazzo. Cal. Cal. Sì. Lei sta bene. Stai tranquillo. Anche tu. Ce l'avete fatta. Che cosa? Abbiamo... Fabiana. Loro dove sono? Sono tutti di là. Ehi, aspetta. Dove stai andando? Scusa. Eri tu quella nell'acqua, vero? Per fortuna stai bene. Lui ti è stato sempre accanto. grazie. Ehi. Ehi. Ora che si fa? Vai, capitano. Il mio viaggio finisce qui. E il tuo contratto è concluso. Grazie, Gris. Beh, se per voi fa lo stesso, pensavo di trattenermi ancora un po' da queste parti. E di portarvi dove volete. E poi il ragazzo si è affezionato a me. Che ne facciamo? Lo usiamo. Per rifondare l'ordine Jedi. La nuova generazione di Jedi. L'impero darà loro la caccia. Saranno prede come noi. La vita di ogni bambino su quella lista sarà stravolta per sempre. Non da noi. Il loro destino sarà affidato alla forza. E ora dove si va? Non da noi. Grazie a tutti. 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 a tutti.